Travedo già Martino, il servo e fedele Martino, che è giunto finalmente nel nostro paese dopo lungo vagare. Sembra che la sosta prima di Monte Piascone sia stata a Orvieto, dove Martino ha posto due est ad indicare un vino buono ma non eccellente. I ragazzi si schierano a fare da fornice all'arrivo del servo Martino. Certo Martino e l'osso, seguito dalle ballerine, dal capitano dei provvisati e dei provvisati. Come Cavaliari Drago! Come questa rappresentanza del corteo, che la parte è seguiti da altri ballerini.